A me piacerebbe essere caldiatore, mi sono in isola, lo spero. Mi chiamo Nassip, vengo dalla Somalia, ho 20 anni, abbiamo fatto spazzacammino questi due mesi che abbiamo fatto. Siamo andati benissimo, spero che andremo avanti, che andrà progetto avanti, avremo futuro. Ho fatto i miei amici più stretti con Antonio, Andrea, Francesco e anche i miei volontari sono portati benissimo, per me sono stati gentili. A me come città mi trovo qui a Napoli, che a me mi regalano un giudizio, mi accompagnano, mi vogliono bene. Se voglio restare in Italia, resti qui a Napoli per sempre, andrò fuori proprio, mi trovo solo a Napoli. Non so, sanità, cassa crescente, devo dire sempre allora grazie che mi hanno portato lì, il primo è stato proprio senza casa. Posso stare fino all'8 febbraio, poi non si sa, quindi se posso stare, posso continuare a lavorare, se andremo avanti. Se no, non ci sarò questo progetto, se mi mandano fuori, perché mi hanno portato un sacco. Ho tante voglia di lavorare.